Anch'io aderisco a questo progetto Ristart per le zone alluvionate della nostra provincia. Dono volentieri questa maglietta che ho vestito nei campi di gara nel 2011-2012 e quindi vi aspetto tutti quanti numerosi all'asta che sarà Villa Pat a gennaio. Quindi un saluto a tutti e arrivederci a Villa Pat.